Tra blocco dei ricoveri programmati, salvo quelli per i pazienti oncologici e procedure d'emergenza per il reperimento di posti liberi nei pronto soccorso da affrontare nel solito contesto di penuria di medici e personale sanitario torna in trincea l'Asla Napoli 1 contro l'influenza 1500 accessi dagli ospedali del mare, San Paolo e Pellegrini e così ieri il direttore Ciro Verdoliva ha deciso di insediare l'unità di crisi. Se i nostri appelli lanciati fin dalla fine di settembre a vaccinarsi sia per l'influenza stagionale che per il covid fossero stati accolti nella misura che ci aspettavamo più che altro che ci auspicavamo, non saremmo stati nei minimi termini come invece nei primi giorni di quest'anno abbiamo dovuto rilevare pronto soccorso congestionato tra ospedale del mare San Paolo e Pellegrini abbiamo avuto 1500 accessi. Tra le misure contro il congestionamento di pronto soccorso già adottate dall'unità oltre al blocco dei ricoveri la riapertura dell'ospedale del mare di un reparto con 42 posti letto l'Asla ha anche deciso di potenziare l'assistenza domiciliare e attivare la reperibilità del personale di comparto. Alle 21 di ieri sera erano già attivi due nuovi reparti per 48 posti letto rispettivamente all'ospedale del mare e al presidio dei Pellegrini e alle 23 mi è arrivato il bollettino e il 50% di questi posti era già occupato. Quindi è una situazione molto molto delicata. Una situazione delicata ma che non preoccupa chi è chiamato a decidere per l'organizzazione delle strutture ospedaliere a fronte di una nuova emergenza sanitaria che potrebbe protrarsi fino alla fine di gennaio. Gli infettivologi ci dicono che stiamo per raggiungere il picco nelle prossime due settimane ed ecco perché abbiamo voluto strutturare fino a tutto il 31 gennaio 2024 le nostre misure fatto salve poi eventuali rimodulazioni delle nostre decisioni.